Seramenti in alluminio. Ciao sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di abitazioni private e lo facciamo attraverso il sistema Bisacchi. Un seramento in alluminio è un seramento che viene utilizzato spesso nelle abitazioni private perché è un seramento di design, un seramento con superficie in vista sottile e anche con la possibilità di farle sottilissime dalla parte esterna tutto vetro, quindi senza vedere il profilo perché è un materiale molto resistente. Questa è una resistenza sia meccanica, quindi mi permette di fare cose molto grandi, sia durata nel tempo. Chi sceglie un seramento in alluminio vuole fare una scelta e poi non pensarci più per i prossimi 50 anni. Oppure uno vuole un isolamento importante e ha superfici grandi, quindi ha bisogno di un seramento resistente perché deve tenere sul peso dei vetri e con un taglio termico fatto come si deve, ecco perché i seramenti in alluminio è molto importante che abbiano il taglio termico, quindi un isolamento nella parte centrale che separa l'alluminio dentro da quello fuori. Poi un'altra particolarità dell'infisso in alluminio è un infisso che può essere verniciato in tutte le tonalità lucide opaca, quindi tutti i colori dell'arcobaleno, dal bianco al nero, passando per tutto quello che c'è nel mezzo e può essere anche di colorazioni diverse tra l'interno e l'esterno. Può essere magari una soluzione importante quando sono obbligato esternamente da un vincolo paesaggistico o magari del colore dell'abitazione di fianco o se si tratta magari di un complesso residenziale da tutte le altre abitazioni, di fuori faccio il colore che sono obbligato, dentro faccio quello che mi piace oppure posso fare delle verniciature a effetto legno o posso fare delle ossidazioni che sono dei tipi di trattamenti che sono specifici e nascono solo per gli infissi in alluminio e permettono una durata ancora superiore, cioè praticamente diventa un infisso eterno. Per riuscire a capire meglio qual è il tipo di infisso corretto e come deve essere posato e garantito è importante fare una consulenza prima di acquistare gli infissi. Per questo ho creato il servizio di consulenza con Sistema Bisacchi. Puoi trovare le informazioni su www.blogbisacchi.it e richiede la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video!